Sarebbe in dirittura di arrivo l'applicazione che viene etichettata come salva vita appartenente alla Samsung In buona sostanza in caso di pericolo si andrebbe a verificare una chiamata alla centrale operativa di Sicur Italia Proprio perché la Samsung, questa compagnia, questa azienda orientale che si occupa di realizzare prodotti tecnologici Ovviamente avanzati come telefoni, smartphone, computer portatili, microonde e così via Ha deciso di pensare proprio alla sicurezza dei propri utenti, alla sicurezza dei propri consumatori E sarebbe quindi in dirittura di arrivo, ripeto nuovamente, una chiamiamola applicazione che garantirebbe protezione 24 ore su 24 persona Una misura importante, una misura che va a sostenere in maniera decisa, completa, concreta e non astratta Quello che è, diciamo così, il ruolo decisivo, strategico della, chiamiamola tecnologia Che potrebbe essere intesa proprio come una tecnologia che va a proteggere le persone Ripeto, protezione 24 persone Così si chiama l'applicazione che entra in contatto con Sicur Italia per far sì che il concetto di sicurezza Venga ovviamente garantito, ampliato e ovviamente, ripeto, posto in essere Proprio perché la Samsung bada e vuole che i propri utenti siano garantiti e sicuri al 100% Grazie per la visione, grazie per l'ascolto Il video termina qua Un salutone, iscrivetevi al prossimo video da Narratore Italiano Grazie a tutti